Ciao a tutti, sono Water Rose e oggi vi parlo degli angeli e della musica. Gli angeli spesso e volentieri ci parlano attraverso la musica, proprio perché è parte integrante della nostra vita ed è quindi considerata dagli angeli un mezzo veramente efficiente per trasmettere i loro messaggi. È importante quindi rimanere aperti e ricettivi, perché le canzoni che ci arrivano e che ascoltiamo in un determinato momento potrebbero contenere un messaggio angelico per noi. In questi casi, gli angeli agiscono tramite la sincronicità degli eventi. A volte una canzone può fare intendere semplicemente che gli angeli sono con noi e ci sostengono. Altre volte potrebbe contenere un messaggio specifico ed è preferibile magari cercare il testo e leggerlo più volte. Chissà quante volte vi sarà capitato di ascoltare una canzone, apparentemente per caso, e le parole sembravano una risposta a un vostro pensiero oppure ad un vostro stato d'animo. Personalmente mi è capitato innumerevoli volte di ricevere messaggi angelici attraverso le canzoni e alcune volte si è trattato di messaggi che hanno fatto la differenza nella mia vita, quindi messaggi davvero molto importanti. Scrivetevi in privato per raccontarmi le vostre esperienze. Per oggi è tutto, a presto!